buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 29 dicembre 2022 ci avviciniamo sempre più alla fine dell'anno ma lasciamo senza rimpianti questo 2022 che non è stato certo così portatore di buone notizie le leggiamo tutti i giorni sui giornali partiamo con l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia davide san davide re pastore poeta compose i salmi che ci sono nella bibbia profeta re e peccatore insidiò bersabea che era la moglie di un personaggio della sua corte ma poi si pentì e fu santificato fu il pastorello che si confrontò con il grande gigante golia resse lo scetro di israele dopo saul per una quarantina d'anni e rese grande il suo popolo quindi oggi si festeggia san davide re e passiamo alle previsioni del tempo vediamo che sulle marche il tempo si mantiene in prevalenza sereno poco nuvoloso con nubi in aumento fino a inserata ci sono i cieli che si oscureranno un po nel pomeriggio i venti saranno al mattino forti al pomeriggio tesi e proveranno da sud ovest le temperature si aggireranno tra gli 11 e 15 gradi e il sole sorgerà alle 7 e 42 tramonterà alle 16 e 38 queste dunque le previsioni del tempo ed ora apriamo i giornali a partire oggi dal corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo che ieri era lutto cittadino a fano per dare l'addio ad anastasia la donna che è stata uccisa la ragazza che è stata uccisa a 23 anni dal marito un femminicidio veramente che ha scosso tutta la comunità e ieri la comunità fanese si è stretta attorno alla mamma di anastasia vediamo il titolo l'addio alla vittima del femminicidio ciao anastasia che dolore perditi cerimonia funebre con il pope e il vescovo armando trasarti partita per l'ucraina la salma della giovane mamma in tanti dunque hanno voluto salutarla per l'ultima volta partecipando alla breve cerimonia religiosa ufficiata ieri mattina nella capellina della camera mortuaria dell'ospedale santa croce a fano è stato un sommesso ciao anastasia o anastasia che dolore perderti pronunciato dai suoi amici dai compagni di lavoro dalle autorità locali dalle rappresentanti della comunità ucraina uniti nello stesso shock nello stesso dolore nella stessa diciamo così passione per quanto accaduto e al termine della benedizione padre medvid il sacerdote che ha ufficiato a questo rito ha rivolto ai presenti parole di ringraziamento nei confronti dei fanesi descritti come persone generose ospitali pronti ad aiutare coloro che si trovano in difficoltà è veramente il clima di solidarietà che si è stretto attorno a questa ragazza è stato veramente incomiabile nella giornata di ieri come dicevo è stato dichiarato il lutto cittadino in concomitanza con la breve cerimonia per dare l'addio ad anastasia ed ora vediamo come ancora la mamma resterà per qualche giorno a fano per sbrigare le ultime pratiche burocratiche per poi ripartire con il figlio letto con il figlio di anastasia verso l'ucraina l'ultimo viaggio di anastasia la mamma grazie per l'affetto e il titolo che appare sul resto del carlino anche in questo giornale l'apertura toccante cerimonia con il vescovo e la comunità ucraina nella cappella della camera mortuaria vediamo qui alcune fotografie in un abbraccio che in questo caso è la comandante dei vigili urbani Anna Rita Montagna che dà alla mamma di questa ragazza e poi qua tutte le persone che hanno preseduto alla cerimonia è qui dunque la partenza della vara è qui l'addio e l'abbraccio del vescovo Trasarti insomma sono momenti toccanti che hanno toccato questa cerimonia ora si chiude una parentesi ma speriamo che quanto accaduto rimanga nell'animo e nel cuore di tutti i fanesi affinché la sensibilità nel rispetto delle donne delle persone più fragili delle persone più deboli rimanga per sempre vediamo l'altro titolo che dà un senso alle pagine dei giornali oggi è quello della Federiciana la biblioteca federiciana che ha ricevuto un consistente finanziamento dal PNRR ebbene l'investimento che serve per realizzare questa nuova opera su progetto di Mario Cucinella uno dei grandi architetti a livello nazionale è di 2 milioni di euro rispetto ai 9 che costa l'intero intervento la nuova biblioteca progettata da Cucinella è sponsorizzata da Corrado Arturo Montanari che è il presidente dell'omonima società di navigazione tramite la fondazione Montanari che in questo caso è preceduta da Antonella Agnoli presente ieri in questa conferenza stampa di presentazione di commento devo dire per quanto si sta verificando nella biblioteca federiciana dopo quanto è avvenuto alla Memoteca Montanari ora un nuovo intervento ancora più diciamo così più eclatante più visibile quello che si sta compiendo accanto alla biblioteca storica quella seicentesca federiciana che rimarrà ovviamente intatta in quanto è vincolata dalla soprintendenza ma sarà anche questo oggetto di cura, di manutenzione e di miglioramento per quanto riguarda la sua funzionalità in realtà la parte aggiunta è questa vedete che bellissimo edificio che verrà aggiunto alla biblioteca federiciana che è in questa posizione questa invece è la chiesa di San Pietro in Valle una biblioteca qui è via Castracane che invaderà anche il parcheggio della sede della polizia locale che sarà trasferita il comando in altro luogo ancora non è stato identificato forse sarà la caserma Paolini forse un altro luogo della città vediamo anche come il Corriere Adriatico tratta questo argomento lo vediamo in questo titolo l'archistar della federiciana disegna un progetto europeo Cucinella ottiene il finanziamento del PNRR Montanari siamo unici in Italia non avremmo avuto la stessa opportunità ha detto Corrado Arturo Montanari se non avessimo presentato un progetto di valore europeo ora dobbiamo scavalcare la burocrazia e portare a termine i lavori senza frapporre ostacoli sì perché un lavoro così consistente magari potrebbe incontrare pensate alla piscina quanti ostacoli ha dovuto superare la fondazione Carifano per portarla a termine ebbene speriamo che tutto questo invece non si verifichi per la biblioteca federiciana e che i lavori possono concludersi portarsi avanti senza i problemi fino alla loro conclusione vediamo gli altri articoli restiamo un attimo sul Corriere Adriatico per vedere come c'è anche una buona notizia per l'arredamento dell'area Exagip c'è una data certa per iniziare i lavori oppure niente finanziamenti questa volta ci siamo davvero dice il giornale dopo il tempo immemorabile che si è perso oggi esiste una data precisa per la concessione dei lavori finalizzati a restituire all'area l'Exagip una sua funzione e una sua dignità è il 30 luglio del 2023 entro questa data devono essere concessi i lavori alla ditta che dovrà eseguirli lo impone la concessione al comune di un contributo proveniente dal PNRR di circa 400 mila euro cui l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori ha aggiunto 40 mila euro attinti dal bilancio comunale tuttavia l'assessore intende anticipare i tempi perché praticamente il progetto è in uno stadio già avanzato e in linea di massima è già condiviso con la Giunta ebbè è uno dei tanti progetti che grazie all'impulso dato dall'assessore Brunori verrà condotto a termine insomma ce ne sono diversi ce ne sono tanti e oggi li ascolteremo dalla viva voce del Sindaco nella conferenza stampa di fine anno che è stata convocata oggi alle 11 a Radarsena Borghese uno dei punti dove si è realizzato un progetto importante ovvero la passeggiata romantica che conduce verso il porto di Fano il primo lotto perché poi deve seguire ancora un secondo lotto per la parte che è al di là della ferrovia e ora passiamo alla Val Metauro qua sul Corriere Adriatico via libera alla Galleria della Guinza speriamo che non sia l'ennesimo spot e dopo quanto è accaduto cioè dopo le tante promesse le tante dichiarazioni fatte dai politici per risolvere il problema del completamento della Fano Grosseto i sindaci del territorio a ragione sono piuttosto scettici l'annuncio della via libera alla Galleria della Guinza non riscuote alcun entusiasmo dice il giornale è una storia che a fasi alterne va avanti da decine di anni commenta il vice sindaco di Mercatello al Metauro Luca Bernardini con delega ai lavori pubblici urbanistica, cultura, turismo e istruzione la fiducia deve essere provata questa volta con dati di fatto cioè non bisogna dire ah lo faremo poi dopo ci sono già i soldi andremo avanti eccetera poi in realtà come in passato tutto si ferma in realtà questa volta si vuole vedere i cantieri installati alla Guinza e poi si esprimerà la propria soddisfazione e il proprio applauso ai politici che riusciranno a portare a termine questo progetto giriamo il giornale siamo a Senigallia dove c'è un provvedimento del Parlamento che cade a fagiolo per quanto riguarda la situazione senigalliese prendere legna dal Misa ora si può alvei puliti e stop al rischio di piene è stato approvato dalla Camera dei Deputati l'emendamento della Lega sui fiumi l'onorevole Marchetti dice così si scongiura l'effetto tappo è stato approvato martedì dal Parlamento l'emendamento della Lega che prevede la possibilità per gli agricoltori di raccogliere tronchi e rami dal fiume e sulla spiaggia è stato inserito nella manovra di bilancio che ieri è approdata in Senato dove è arrivata sotto forma di comma nella legge del bilancio l'emendamento è a firma una delle prime firme dell'onorevole Mirko Carloni ex vicepresidente della Giunta delle Marche e poi è stato sottoscritto anche dall'onorevole Riccardo Augusto Marchetti insomma due rappresentanti regionali che conoscendo bene le difficoltà e anche i rischi provocati dai torrenti dai fiumi in piena possono in questo modo così contribuire a risolvere la situazione perché se uno non può raccogliere i tronchi che galleggiano nei torrenti questi poi intasano i ponti e quindi l'ondata di piena di borda dagli argini si verificano i danni che si sono verificati in passato vediamo che a Senigaglia un clochard è stato trovato morto alla Caritas il 47enne era stato accolto a Natale stava male da tempo era fatta l'autopsia era una delle 5756 persone che sono state assistite dall'associazione nel 2022 una tragedia veramente che ha un po' funestato le feste natalizie vediamo ora qualche notizia che riguarda Pesaro passiamo prima dalla regione che saltiamo e vediamo come ormai scade la data dei Deors a Pesaro Deors tempo scaduto i locali devono adeguarsi alle direttive del comune devono avere le tende tutti uguali devono conformarsi alle direttive che sono state impartite dalla soprintendenza in modo da dare un aspetto estetico per quanto riguarda l'immagine della città deve essere tutto coordinato e uno non può fare quello che vuole per conto suo da gennaio partiranno i controlli della polizia locale per verificare adeguamenti e progetti per la messa a norma dei Deors in tutto il centro storico vediamo che le zone dove già tutto in regola sono quelle di Piazza del Popolo e di Corso 11 settembre l'avvio dell'iter con le modifiche al regolamento di occupazione del suolo pubblico è già iniziato tempo addietro nel 2017 l'amministrazione comunale di Pesaro ricorda che la scadenza della proroga concessa dal servizio attività economiche del comune è il 31 dicembre quindi pochissimi giorni quindi ci sono pochi giorni per mettersi in regola Pieve si tratta di Pieve Santo Stefano a Candelara le travi possono sganciarsi tiranti per la sicurezza dei fedeli sono allarmati i tecnici volontari di Candelara Don Cernuschi le scosse sono state l'ammazzata finale veramente sono molti i danni che il terremoto ha compiuto in questa antica chiesa in questo antico edificio ora c'è il pericolo che si possano sconnettere le travi della copertura sono assai preoccupanti anche le crepe dentro la chiesa nel campanile e nella muratura esterna quindi ci vuole veramente un progetto di consolidamento molto molto particolare molto molto insomma intenso in modo che la chiesa possa resistere ancora per tanti e tanti anni invece per completare il vecchio palazzetto dello sport questo cantiere infinito a Pesaro ci sono 120 aziende in competizione e oggi ci sarà un po' la prima scrematura la prima scrematura oggi con il sorteggio l'investimento B sarà di oltre 3 milioni e mezzo non finisce mai un pozzo senza fondo questa fabbrica questo 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 progetto che deve cambiare un po' l'estetica ma anche la destinazione nella funzione del palazzetto il vecchio palazzetto dello sport di via di partigiani a Pesaro che sarà adibito a funzioni di spettacolo 21 milioni per la casa delle tecnologie il comune dovrà realizzare un laboratorio diffuso che coinvolgerà tutta la città caccia alle sedi ebbene con Pesaro capitale della cultura 2024 la città avrà la sua nuova casa delle tecnologie emergenti sono stati vinti pensate 11 milioni di euro risorse che provengono dal ministero delle imprese e del made in Italy per realizzare un laboratorio innovativo diffuso a servizio della città lo ha annunciato ovviamente con grande orgoglio il sindaco Ricci ed ora passiamo a leggere il resto delle Carlino vediamo come il giornale si occupa anche dell'estetica del lungomare buche radice tombini pericolosi in zona mare regna il degrado c'è maretta tra i residenti e i commercianti coloro che operano in zona mare in quello che dovrebbe essere un po' il salottino della città il luogo dell'accoglienza e della cura dei turisti ebbene qui i residenti si lamentano per l'incuria in cui versa la zona negli ultimi mesi pare esserci solo il problema di Viale Adriatico e Via Alighieri la questione dei parcheggi la ricordate ma coloro che abitano nelle strade adiacenti ai due vialoni si lamentano perché ci sono nelle strade buche avallamenti radici degli alberi che spurgono dall'asfalto tombini pericolosi ammalorati poi non dico le foglie ma le foglie è un problema di stagione e poi ci sono anche altri problemi di pericolo soprattutto in via del Perugino in via Manzoni e in via Barocci dove soprattutto qui il pericolo dei tombini è particolarmente emergente vediamo ancora la pagina di Urbino a Capodanno città in vetrina con il resto d'Italia il primo diciamo così il 2023 si annuncia con una programma di festa con un programma di festa particolare tra il 31 e il primo dell'anno insomma si cerca di dimenticare i guai e di guardare con fiducia verso il futuro diretta in radio collegamenti con diverse località e già sono tanti turisti che chiamano per conoscere il programma della lunga notte e una delle cose più belle di Urbino è certamente Palazzo Ducale e andarlo a visitare domenica dovrebbe essere una delle mete dovrebbe costituire una delle mete più importanti a livello culturale del nostro territorio l'ospedale che scoppia nella bufera Ruggeri si intervenga subito è l'appello della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri che si occupa in maniera molto molto pressante e costante della sanità dice si intervenga subito all'ospedale di Urbino servono medici ma servono anche posti letto anni e anni di taglie la burocrazia ha creato una situazione complicata una congestione per la struttura sanitaria di riferimento per tutto l'entroterra non solo per la città ducale è una condizione raccontata già ieri sulle pagine del giornale e oggi è a intervenire e la politica e quindi Marta Ruggeri sollecita gli organi competenti ad intervenire al più presto fondi e contributi per i centri alluvionati aiuti aiuti alle famiglie ma anche per strade e viabilità consegnati riconoscimenti al Rotary Club di Cagli impegnato in prima linea tutto quest'articolo riguarda la comunità di Cagli ebbene si annuncia anzi si descrive una giornata particolarmente speciale quella che ha caratterizzato gli auguri di Natale per il Rotary Club Cagli Terra Catria e Nerone svoltasi in un clima di amicizia rotariana non dimenticando però il fine istituzionale quello di fare service ovvero di pensare agli altri e quindi di aiutare la comunità in cui si opera e gli effetti dell'erluvione sono uno dei problemi primari che in queste zone dell'entroterra deve essere risolto apriamo la pagina del resto del Carlino anche su Pesaro e vediamo come si evidenzi un problema di sanità Caccia al Brufen il Brufen è un medicinale un antinfiammatorio scorta esaurita in farmacia pensate e così diventa più difficile curare i piccoli l'antinfiammatorio spesso prescritto con troppa facilità l'equivalente generico presenta complicazioni per il dosaggio ai baby pazienti ebbene è una speciale caccia al tesoro quella che si sta verificando a Pesaro per l'ibuprofene principio attivo del Brufen e il nome del medicinale è un farmaco che cura le infiammazioni dei dolori anche il mal di testa ormai raro da qualche settimana le cause che hanno scatenato questa carenza sono tante alcuni hanno pensato alla paura di una nuova ondata di Covid e per contrastare la febbre hanno fatto scorta altri probabilmente hanno pensato che quando un bambino sta male ebbene avere pronta una scorta di questi medicinali per alleviare il dolore e poi insomma ci sono anche altri altri farmaci di cui si fa incetta uno di questi è anche la tachipirina ebbene leggere questo articolo e salutare proprio sic sempliciter detto detto e ridetto per evidenziare il significato della parola e qui invece parliamo della influenza parliamo dell'australiana una minaccia per i bambini influenza l'allerta dei pediatri Mancino a confronto il Covid è stata una passeggiata ha detto il pediatra Mauro Mancino sotto i tre mesi si deve fare molta attenzione perché l'influenza può essere anche una brutta malattia in genere è una malattia che si risolve nel giro di una settimana qualche volta poco più però per quanto riguarda i bambini in tenera età è molto pericolosa il Natale per molti pesaresi è stata una giornata da trascorrere a letto con l'influenza l'influenza australiana che quest'anno è particolarmente incisiva probabilmente noi ci siamo difesi gli anni scorsi grazie alla mascherina ora la mascherina la teniamo di meno e il virus trova una porta aperta per entrare nel nostro organismo addobbi addobbi pericolosi nei guai l'emporio in centro la finanza ha sequestrato in sei punti vendita a Pesaro Fano e Vallefoglia 180.000 oggetti ritenuti pericolosi molti made in Cina addobbi natalizi matite penne materiale da ferramenta merceria per un totale di quasi 180.000 pezzi ritenuti non a norma sei negozi segnalati tra Pesaro Fano e Vallefoglia detenuti da cinesi ma anche due supermercati e una catena internazionale di circa 26.000 euro di sanzioni questo è il risultato di una vasta azione che la Guardia di Finanza ha compiuto nei giorni scorsi operando dei controlli in quelle località di cui ho detto è il bilancio del maxi sequestro messo a segno dagli uomini della Guardia di Finanza di Pesaro nel solo mese di dicembre e in cui in occasione delle festività natalizie hanno deciso di intensificare i controlli nel settore della commercializzazione di questi prodotti che magari arrivano da altri paesi vediamo i furti e da qualche giorno che i giornali parlano di furti dopo una parentesi di diciamo così abbastanza tranquilla dove questi furti questi fatti non venivano segnalati probabilmente non c'erano invece da un po' di tempo in qua vediamo che i ladri si stanno rifacendo vivi probabilmente hanno aspettato le festività natalizie per così rimpinguare i loro bottini una famiglia esce di casa i ladri entrano e fanno razzia a Villa Fastigi un uomo finge di sentirsi male nell'officina del gommista poi ruba 300 euro pensate sono le 18 una famiglia che abita in via Liverani nella zona di Calcinari è uscita di casa qualcuno li ha osservati e ha approfittato del buio per passare dal retro della propria della sua abitazione di quella della famiglia dove c'è anche la piscina e il giardino quindi era una famiglia benestante una volta all'interno dell'appartamento i ladri hanno preso tutto quello che sono riusciti ad arraffare in particolare hanno puntato sulla cassaforte avevano un frullino per scassinare la porta della cassaforte e hanno prelevato una scatoletta con tutto quello che c'era all'interno un altro furto poi è avvenuto nell'officina di un gommista nella zona di Villa Fastice insomma attenzione ai ladri addio Marche Nord Valzer delle nomine ma i sindacati strappano sul budget sono le ultime ore queste per l'azienda ospedaliera Marche Nord da gennaio sarà inglobata nell'Ast 1 ovvero dell'azienda sanitaria territoriale 1 entro domani si decide il commissario intanto salta la firma con i rappresentanti dei lavoratori nessuna garanzia sui piani occupazionali i sindacati non accettano questo ancora questo modo incerto di procedere vogliono avere sicurezza vogliono avere nero su bianco vogliono soprattutto avere garanzie per il lavoro di coloro che in questo momento si stanno impegnando nella sanità promozione per le feste col Carlino abbonati all'edizione digitale accesso al quotidiano cartaceo a 1,79 euro a settimana vediamo anche la pagina di Urbino questa la vediamo prima l'abbiamo vista sul Corriere ora la vediamo sul resto del Carlino a Capodanno città in vetrina con il resto d'Italia diretta in radio e collegamenti con diverse qualità e già sono tanti i turisti che chiamano per conoscere il programma della lunga notte è una notizia questo che riguarda le feste dell'ultimo dell'anno e del primo e del primo gennaio sul Corriere Adriatico nel cuore del Rinascimento il Capodanno che non ha età musica live street food e il collegamento nazionale con radio studio più Capodanno Urbino si festeggerà in piazza in piazza con gastronomia con musica con tanta tanta speranza perché l'anno prossimo sia migliore ebbene con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 mentre per le notizie del giorno vi invito a seguire il TG di Occhio alla Notizia di Fano TV questa sera alle ore 20.30 grazie per l'ascolto a risentirci a truck a i o a a Grazie a tutti.